Un vero e proprio terremoto politico, quello che l'inchiesta della DDA di Lecce, portata avanti dalle meticolose indagini della Guardia di Finanza di Taranto, ha provocato a Statte e non solo. Dopo l'arresto dei vertici del Comune, gli scenari che si aprono sono evidentemente due. La possibilità, dopo le attese di missioni del primo cittadino, dello scioglimento del Consiglio Comunale l'andata al voto nella prossima primavera, è quella più probabile sempre dello scioglimento del Consiglio Comunale, ma per mano del Governo e quindi del Prefetto per infiltrazioni mafiose, il che significherebbe lo spostamento nel tempo di nuove elezioni comunali con la nomina di un commissario. Le indagini, fatta salva l'innocenza di tutti gli indagati fino al termine del percorso giudiziario, mettono ancora una volta in evidenza il lavoro delle malavite per crearsi contatti e rapporti con il Consorzio Civile, sfruttando anche e soprattutto le campagne elettorali. Il tema della legalità che si ripropone sempre e comunque, ancora ieri, un'altra indagine, quella della Procura di Napoli, che ha creato una vera e propria bufera nel Partito Democratico. Qui il discorso è quello degli appalti pilotati, come si dice in gergo, il vestitino, le regole e le caratteristiche per partecipare ad un appalto calzano cioè perfettamente con quelle di un'azienda o un gruppo di imprese che poi, guarda caso, risultano vincitrici. Al centro delle indagini, per quanto riguarda il filone tarantino, la riqualificazione di Palazzo Carducci nella città vecchia per un appalto da 7 milioni di euro e il ruolo di un dirigente del Partito Democratico. Insomma, la questione morale ad ogni latitudine e tempo continua a tenere banco e a rappresentare uno dei capitoli più spinosi che la politica, volente o nolente, deve affrontare e risolvere.